direttamente da grado per la presentazione della seconda maglia dell'udinese siamo qui con lorenzo lucca ciao lorenzo partiamo subito dalla maglia ti piace molto molto questo giallo che richiama anche un po la divisa di due anni fa con un giorno magari un po più acceso tu sarei tra grandi protagonisti in questa stagione sei acceso diciamo un po al varco perché comunque l'anno scorso è stata un'annata importante per te hai sentito anche un po di odore di nazionale ti sei rimposto dopo un periodo difficile come l'hai vissuta l'anno scorso sicuramente sono stato molto contento di come ho approcciato il campionato perché non era facile non è mai facile giocare in una squadra che l'anno scorso diciamo abbiamo fatto un po di fatica ma non a livello di giocatori ma a livello proprio di gruppo ci siamo abbiamo avuto tante volte abbiamo avuto una sfiga però ci siamo portati la sfiga un po ad otto non ha girato nel verso giusto quindi no sono contento che la società mi abbia dato tanta traduzione voglio stare qua e voglio fare tanti gol e aiutare la squadra a chissà qualcosa di importante a proposito di gol è sempre difficile magari darsi un obiettivo però immagino per quest'anno più di otto beh sicuramente nove perché sicuramente è un obiettivo che mi prefisso ma non devo focalizzarmi solo su quello dovevo devo imparare molte cose ancora e questo è comunque l'anno della consacrazione perché comunque dopo il primo anno diciamo che non è facile non è facile fare il primo anno ma sicuramente consacrarsi secondo anno è più molto più difficile è cambiato anche qualcosa in questo gruppo perché adesso comunque la fascia è passata un ragazzo come tovene che hai imparato a conoscere ed è arrivato anche un altro ragazzo che potrebbe essere uno dei leader ovvero santi come si stai trovando con tovene e cosa ti aspetti dall'arrivo di santi sicuramente tovene non devo essere io adesso il giocatore che ha esperienza europea mondiale perché comunque ha vinto il mondiale con la plancia e sono contento che sia lui capitano sono contento che si prende le sue responsabilità perché è un ragazzo che merita e che mi aiuta anche durante gli allenamenti e durante le partite bucate in chiusura Rugnaic un giudizio dopo questi mesi in cui l'hai conosciuto è un allenatore non ci ho parlato un po' ma neanche tanto però mi sembra una brava persona non ci ho parlato un po' ma neanche tanto ma non ci ho parlato un po' ma